Tra il sogno e il progetto c'è di mezzo una data e la data è quella di oggi. È nato Mover, l'innovativo progetto turistico e sportivo creato per il territorio e con il territorio di Cortina, con un team composto di oltre 20 persone, tra grandi campioni, guide alpine, istruttori nazionali, allenatori federali, freeriders, maestri, VIP ed esperti di gestione aziendale. Un progetto molto ambizioso, che ha tutte le carte in regola per diventare la chiave di volta dell'offerta turistica sulle Dolomiti. Mover è una filosofia e cultura della montagna. È uno spazio in cui condividere uno stile di vita, un'offerta a 360 gradi per tutte le stagioni, con pacchetti costruiti sulla base delle esigenze più personali, da vivere insieme ai grandi campioni. Nel nostro team possiamo annoverare dei nomi famosissimi, di champion famosi. Oltre a Cristian Ghedina si affiancherà a noi Pietro Piller-Cotter, la Deborah Compagnoni e Giacomo Kratter. Questi sono quattro campioni, i nomi dei quali parlano da soli. Sì, arrampicata, trekking, road, fatbike, parapendio, rafting, free climbing, fotografia, eventi e molto altro. Un vero e proprio club animato dalla condivisione delle stesse passioni. Sarò molto impegnato l'inverno, però ho anche molte giornate libere che dedicherò a Mover per andare a sciare con la gente che ha voglia di divertirsi, che ha voglia di provare esperienze nuove e magari anche andare a vedere dei posti diversi dove magari anche ho vinto qua nelle montagne mie. Oggi il progetto è nato e diventerà realtà in due mesi con l'inaugurazione della sede per offrire già da quest'inverno i suoi servizi a tutti i clienti. Grazie. Grazie.